Bene, salve e buonasera a tutti. Giovedì in nero per i listini europei che chiudono con pesanti perdite. Dax che chiude a meno 1,77%, Ibex meno 1,26%, CAC di Parigi meno 1,81%, Fuzzi Londra meno 1,42% e la peggiore performance invece della giornata è stata raggiunta appunto dal Fuzzi Mim che ha chiuso in calo del 2,05% a 20.136 punti sui minimi da tre mesi. Il nervosismo dei mercati è dettato soprattutto principalmente dalle tensioni sul fronte dei dazi commerciali, in particolare la guerra tecnologica che si sta scatenando praticamente tra le parti in causa. Questa situazione potrebbe rischiarsi appunto di trasformarsi in una ulteriore situazione che potrebbe quindi comportare ulteriori movimenti ribassisti nelle prossime giornali, nelle prossime sessioni. In particolare stamattina la britannica che produce componenti tecnologici chip ARM è stata l'ultima a sospendere legami con la rete e il produttore di telefoni Huawei, unendosi a un elenco di aziende che si stanno conformando a un blocco statunitense verso l'impresa cinese. Il Fondo Monetario Internazionale rimarca come l'ultima escalation della guerra commerciale potrebbe intaccare in modo significativo il sentimento dei mercati finanziari e delle imprese. A questa situazione si aggiunge soprattutto le news che sono state rilasciate oggi con il prodotto interno lordo della Germania che ha segnato nel primo trimestre dell'anno una crescita del 0,4% rispetto al periodo precedente dello 0,6% su base annua. Si tratta della lettura finale che conferma la stima preliminare e le attese del mercato. Sempre dalla Germania si conferma la fase di contrazione dell'attività manifatturiera. A maggio l'indice PMI del settore, secondo la lettura preliminare, si è attestata a 44,3 punti il leggero calo rispetto ai 44,4 punti di aprile. Deluse le attese degli analisti che si aspettavano un leggero miglioramento a 44,8 punti. Inoltre l'indice PMI dei servizi, secondo la lettura preliminare, è sceso da 55,7 punti di aprile, più del previsto. Gli analisti infatti avevano pronosticato per un ribasso pari a 55,5 punti ed infine continua poi a deteriorarsi la fiducia delle imprese tedesche. A maggio il sondaggio IFO il dato si è attestato a 97,9 punti in calo dai 99,2 punti di aprile. Mancate le attese del mercato che si attendeva un dato fermo a 99,2 punti. Il suo sentiment continua anche qui a pesare il conflitto commerciale USA e Cina. Mentre dall'eurozona l'attività manifatturiera peggiora confermandosi in zona recessiva. A maggio l'indice PMI manifatturiero, secondo la lettura preliminare, si è attestata a 47,7 punti il leggero calo rispetto ai 47,9 punti di aprile. Deluse le attese degli analisti che si aspettavano un miglioramento a 48,1 punti. Sempre dalla zona euro l'indice PMI dei servizi che misura l'andamento del comparto terziario è scesa a maggio a 52,5 punti dai 52,8 di aprile. Si tratta della lettura preliminare che deluse le attese degli analisti pari a 53 punti. Peggiore invece oltre le attese all'attività manifatturiera americana del mese di maggio. La stima preliminare diffusa da Market indica per l'indice PMI un valore di 50,6 punti in declino rispetto ai 52,6 punti di aprile. Il dato risulta inferiore alle attese degli analisti che avevano previsto un valore dell'indice pari a 52,5 punti. Il PMI del settore manufatturiero si conferma comunque sopra la soglia psicologica dei 50 punti che separa contrazione ed espansione. Sempre dagli Stati Uniti la vendita di case nuove è scesa su base mensile del 6,9% ad aprile dal precedente più 8,1 rilevato a marzo. La previsione degli addetti ai lavori indicavano una contrazione più contenuta pari al 2,8%. Bene, andiamo adesso a vedere anche quello che succederà domani, venerdì 23 maggio, ultima sessione seduta della settimana. A mezzanotte e 45 dalla Nuova Zelanda abbiamo il saldo della bilancia commerciale di aprile. Alle 10.30 dalla Gran Bretagna le vendite al dettaglio di aprile. Alle ore 11 l'indice di prezzo al consumo di aprile. E poi alle 14.30 i principali ordinativi di beni durevoli. Bene, ora passiamo all'analisi dei principali scenari partendo dai movimenti più importanti. In particolare sul Dow Jones. Il Dow Jones abbiamo già preso profitto stamattina, in pratica l'operazione di ieri sera a 190 punti. Adesso abbiamo un'altra operazione, un altro sell, dove praticamente alla rottura di questa zona siamo entrati al mercato. In questo momento stiamo ad altri 190 punti. Quindi siamo molto vicini al target, quindi molto vicini, oddio, mancano altri 120 punti, a 25.245. Dove aver spostato il target più in basso. Mentre invece, per quanto riguarda la situazione legata ad altre operazioni interessanti, in particolare andiamo a vedere anche US Crude. US Crude molto bello come operazione di vendita. In questo momento anche su US Crude abbiamo preso profitto, 58.40 stamattina ultima operazione. Poi siamo entrati un'altra volta al mercato, quindi in questo momento su US Crude abbiamo, dopo aver chiuso a 221 punti, ovvero a 58.40, l'operazione di stamattina, adesso praticamente abbiamo altre due operazioni al mercato. Una aperta il 21 maggio, l'altro ieri, a 63.10, in questo momento siamo a 482 punti di profitto, eccola qui. E un'altra aperta proprio US Crude, un'altra praticamente che si è chiusa, si è chiusa su US Crude, eccola qua, proprio stamattina. Abbiamo chiuso l'operazione, abbiamo chiuso l'operazione, quindi a 303 punti ed al momento vedete come anche qui ho spostato lo stop loss, il target più in basso a 56.20, con lo stop loss a profitto a 60.30, quindi già oltre 200 punti di profitto. Bene, questa è la situazione, quindi 58.40 che abbiamo raggiunto, quindi praticamente per quanto riguarda US Crude. Mentre invece, per quanto riguarda l'oro, altra bella operazione, quindi indici giù, oro su, quindi abbiamo anche qui, oggi abbiamo preso profitto sull'oro, 43 punti. Adesso ci stiamo avvicinando al secondo target, esattamente ad 1.288.10, quindi in questo momento ci troviamo ad circa 105 punti di profitto sull'oro. Molto bene anche le movimentazioni sull'euro dollaro, quindi euro dollaro che in questo momento c'è una forte presa da parte dei compratori, quindi hanno ripreso le redini in mano. Quindi questa zona di cui già ne abbiamo parlato, sia durante la diretta live mattutina e quella pomeridiana, vedete, zona di rimbalzo, quindi c'è stato un bel rientro da parte dei compratori. Peccano invece è l'unica operazione che è andata male per quanto riguarda USDCAD, USDCAD dove abbiamo chiuso in stop loss due operazioni a meno 30 e a meno 50 punti, erano due operazioni in sell e poi dopo praticamente a 1.35 stop loss, vedete, è proprio preso per qualche millesimo di punto e poi l'operazione è ritornata di nuovo ad in a ribasso. Per bene, per stasera è tutto, grazie mille per l'attenzione, quindi ci aggiorniamo domani mattina con l'ultima diretta live della settimana alle ore 8.30. Buona serata a tutti, a domani.